Presa. L'hai fatto slittare, Volt. Frutta! Frutta! Quello è... È Babbo Natale. È Babbo Natale. Abbiamo colpito Babbo Natale. Tu hai colpito Babbo Natale. Ok, ho trovato un po' di lana e dei feli. Abbiamo fatto esplodere Babbo Natale e tu pensi al lavoro a maglia. Almeno potremo far finta di niente quando gli altri torneranno. Ma io non so farlo. Sì che sai farlo, certo. Si può sempre imparare per coprire un misfatto. Forza. Voi due fate la maglia. Cosa? È così. E anche bene. Se non sbaglio, quella che vedo è una maglia gettata quadrupla. Coprite un misfatto. Cosa? Che cavolata. Mentre noi eravamo in strada a non comprare le pannocchie. Oh, mi dispiace. Grazie. Abbiamo visto un lampo nel cielo sopra il mannido. Questo mannido? Proprio questo. Ah, e che cosa c'è sotto quel lenzuolo con il cartello che dice non sono affari i vostri? Sono sicura che non siano affari i vostri. Il mio amico Babbo Natale è già passato. Ciappala fulminato. Taci. Hai fulminato Babbo Natale. Credevamo che qualcuno stesse attaccando il mannido. Chiunque avrebbe fatto lo stesso. Brancolavamo nel buio. Abbiamo riattivato il sistema e abbiamo fatto esplodere Babbo Natale nel cielo. E mi sento malissimo. Ma ok, questo volevate sentire? Aspetta, Babbo Natale sta bene? E lì va. Ehi, amore. Allora, ti senti bene? Dove sono? Sei nel mannido. Oh, e chi sono? Tu sei Babbo Natale. Cos'è un Babbo Natale? Babbo Natale non sa più chi è. Ha sbattuto la testa quando è caduto perché Ciappa ha voluto farlo esplodere in fesso. Chiara, c'è, smettila! Allora dov'è adesso? Già, è bloccato qui a Suelvio la vigilia di Natale senza sapere chi è. L'omone sarà al sicuro dietro quella posta. Se n'è andato? Dov'è mio fratello? Oh sì, sento il suo lezzo natalizio dappertutto. Nessuno dica niente. Se n'è andato. Sul se. Sì, ricordi, ci hai detto che ha perso la memoria ed è scappato. Non riesci a stare zitto. Bene. I tuoi ragazzi del doposcuola hanno fatto tutto il lavoro per me. Batte il puglio, amichetto. Babbo's! Babbo's! Capizzato! Benvenuto nel club di Krampus. Ho trovato il mio club interiore. Allora, che diavolo guardate? Ma che cosa gli hai fatto? Ho un fratello da trovare, un sacco da guantare, un'amata festa da rovinare e... Krampus, va! Sei veloce. Ma devi darmi quel sacco. Ho Krampizzo la biondina. La Krampizzo? Sai che non posso farlo, Krampus. Preparati al peggio. Ultime notizie. Un'altra persona è approdata sull'isola di Krampus. Krampus, parti! Chi è che ha due pollici e odia il Natale? Questo è il caso! Arrenditi, Krampus. Abbiamo il sacco. Noi troveremo Babbo Natale. E quindi salveremo il Natale. Dunque, come salverete il Natale se non è rimasto più nessuno a cui piace? Qualcuno ha un drink energetico? Arriva subito, amici di Krampus. E i partiti dei Krampus a tutti i giorni! Giorni con la Y! Smammiamo volta. Aspetta un secondo. È stato facile. Già, non pensiamo funzionasse. È forte, no? Scherziamo. Andiamo, 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 andiamo. Dovrete impegnarvi di più se volete salvare il Natale, ragazzi. Sembra che questa storia avrà un gran bel seguito! Krampus!